Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati in un nuovo appuntamento live del Bianconero. Come ieri ci sono tantissime cose di cui discutere, dicevo prima di iniziare la live a Rome, la sera si fa in qualche modo il programma del giorno dopo, visto gli avvenimenti e quindi ne parliamo, ne parliamo insieme a Romeo Agresti. Ciao Rome. Ciao ragazzi, ve lo dico subito che oggi sono molto arrabbiato, eh? Innanzitutto perché Todibono mi ha fatto andare a dormire. Ho detto già questo, partiamo da capoprimo e poi no, non mi è piaciuto minimamente come la Juventus abbia gestito quest'operazione e dopo ne parliamo. Cristiano Corbo. Ciao Nino, ciao a tutti, leggevo anche già i commenti, non sono in nessun parcheggio ed è una cattiva notizia per tutti perché quando non mi muovo vuol dire che... Ti sei imborgesito, ti sei imborgesito. Eh, ma non c'è nessun motivo per muoversi, quindi... Perfetto, no Rolex non ancora, però stiamo lavorando, dipende da te direttore, mettiamola così. Lo voleva prendere poi ieri ha regalato gli abbonamenti e quindi gli è venuta meno la cifra esatta. E poi il nostro ospite Alessandro Crosta, ciao Ale. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Io volevo chiedere una cosa ad Ale, siccome volevo introdurre anche un attimino il discorso appunto esterni, no? Tu lo hai detto, parlando di priorità prima, dell'esterno a destra. Io ti volevo chiedere, visto che abbiamo citato anche Copminers, secondo te oggi chi dei due è più necessario in questa Juve? C'è proprio il primo di tutti che va messo lì? Allora, per me è l'esterno, per quello che ho visto anche come richieste di Tiago Motta è Copminers, però io credo che l'esterno in questo momento, anche a livello numerico, io ti parlo proprio anche come completezza della rosa, in questo momento con chiesa fuori, così si dice, ha detto Tiago Motta, con chiesa fuori hai solo UEA e il Viz come giocatori che ti possono giocare esterni, soprattutto UEA ti gioca solo a destra, perché a sinistra non vedo un giocatore in grado di giocare con il piede debole sul lato laterale del campo. Anche secondo me farà bene, però in questo momento abbiamo visto nelle amichevoli la Juventus a sinistra sviluppava benissimo gioco, anche con delle rotazioni mi sono piaciute molto e una volta ha trovato il lato debole, UEA comunque, non dico che faceva fatica perché lui ha messo anche molta intraprendenza nel modo di giocare, però una volta sbagliava il dribbling, una volta sbagliava la scelta, mi ricordo un'azione contro il Brest che invece di calciare, invece di passare la palla a Blauvic, no invece di calciare scusate ha provato a passare la palla a Blauvic e lì è proprio un errore di scelta, un errore cognitivo dentro al campo, per me non è un calciatore pronto. Io da inizio anno sognavo, da inizio mercato sognavo Sancho, Sancho, per me era proprio il sogno. D'altro oggi ci sono delle voci di nuovo da Parigi che lo danno, quantomeno tra i monitorati del Paris Saint Germain, prima iniziale. Sancho a me piace tantissimo. Sancho viene citato da tutti sempre. Sancho mi fa impazzire, ma io ho la maglietta in quell'armadio che si intravede e poi dietro, quindi è un giocatore che adoro, lo adoro dai primi anni al Borussia, ero proprio innamorato. Poi si è un po' perso allo United, però la qualità del giocatore non si discute. Ale, ma ci dobbiamo illudere con UEA? Secondo me farà bene perché comunque l'anno scorso, cioè per me una stagione migliore dell'anno scorso, già con il 6 è migliore dell'anno scorso, con il 6 in pagella, perché non ha praticamente giocato, quindi non è neanche valutabile. Secondo me è molto bravo nei spazi aperti e comunque ha una gamba importante, è un giocatore che ha un buon tiro. Abbiamo visto che ogni volta che conclude a rete conclude bene, però secondo me non è un giocatore pensante in campo e non è un giocatore da rifinitura, è un giocatore nei spazi brevi, secondo me fa tanta fatica, fa tanta fatica nell'uno contro uno quando c'è poco spazio, ovvero quando magari deve puntare l'uomo dentro l'area di rigore, secondo me fa molta fatica. Dai nomi che ho letto, contando che Sancho secondo me non è più appetibile, quello che mi piace di più a me è Galeno e io lo utilizzerei sempre a destra, cioè per me Galeno nonostante sia un giocatore che ha giocato la stagione a sinistra, per me a destra può fare molto bene. Ad oggi, da quello che leggo, anche da quello che dite voi, dato che io di mercato non ho nessuna notizia, anche lui è un po' in stand-by, quindi non so, non so veramente. No, in chat per farti continuare il discorso parlano anche di comande, che se non sbaglio era uscita questa cosa, una possibile uscita. Ti piace? Se è integro sì, se è integro. Se è integro, eh no, il problema è quello, però la qualità non si discute. Ragazzi abbiamo un casino di donazioni, abbiamo un casino di donazioni, senza sale giuntoli non può cucinare. A me non compaiono però, me la metto in ritardo. Ecco, vi prendo ragazzi. Senza sale giuntoli non può cucinare. Proviamo la risposta di Consessao. Sì, è questo, perché stiamo citando tutti gli esterni appunto e volevo arrivare a quelli ancora non nominati da Ale, quindi Consessao è il più semplice da prendere, ma la Juve per il momento lo tiene lì. Poi è una strategia che può mutare, un esterno lo compri, se parte chiesa, un esterno lo prendi in prestito, in questo magari Consessao ti torna utile, ma per il momento la Juve, molto meno nelle ultime ore, ha lavorato, oddio, adesso direi con più profitto dopo tutti i bobs, ha lavorato con più intensità, ha lavorato più intensità su Nico Gonzalez, che però per lasciar partire Nico, la Fiorentina, attende di chiudere Gudunson, insomma, tutto un gioco incastri. Ti piace Ale e Nico? Secondo te farebbe il caso di Tiago? Nico è un giocatore un po' diverso da quello che mi aspetto io sulla catena di destra, soprattutto perché secondo me, per quello che ho visto in amichevoli, quasi ci conviene un piede forte sulla zona laterale rispetto a un piede invertito, da quello che ho visto. però, comunque in Serie Anico Gonzalez c'ha sempre il dubbio della condizione fisica, perché è un altro giocatore che comunque rischi che ti fa quei 40 giorni ai box, l'ha fatti anche quest'anno. È un giocatore strano, perché io ne parlavo anche in un'altra trasmissione, mi assomiglia a Mandzukic come funzioni. Ora bestemmierò perché tanti mi dicono assomiglia a Mandzukic. È un esterno che si ritrova molto bene dentro l'area di rigore, anche sui colpi di testa è un giocatore fortissimo, è un giocatore che attacca bene gli spazi, è più forte senza palla che con la palla, secondo me. Per me è un giocatore che è più forte nell'inserimento e nei movimenti senza palla che quando deve giocare palla al piede, è un giocatore che ti fa la doppia fase perché non ha problemi a ripiegare o comunque a essere un giocatore che si impegna anche nella fase di non possesso, però secondo me a livello puramente qualitativo, nell'uno contro uno, nel tiro in porta, nell'assist, nella ricerca del passaggio un po' più incisivo, quindi il passaggio chiave, secondo me è un passettino indietro, rispetto un po' anche ai standard Juve, cioè io se penso che a Ildiz e Chiesa, che comunque Chiesa anche se è fuori rosa comunque ancora ce l'abbiamo noi, e poi penso a Nico, per me Nico è un passetto indietro su queste cose qua, però comunque in Serie A non è un giocatore che ti sdegnerai troppo, in Europa secondo me ancora non può incidere. Ad Ale volevo fare anche la domanda famosa sul numero degli esterni, perché lui ha parlato quella è la priorità, ma secondo te oggi alla Juventus quanti esterni servono? Allora, secondo me in rota ne servono, in rota ne servono quattro, almeno, cioè diciamo che il principio un po' del numero di giocatori è sempre il doppio del ruolo più uno, però in questo caso secondo me, dato che abbiamo un modulo anche molto secondo me variabile nel corso della stagione, giocatori multifunzionali, come ha detto Motta nella prima conferenza, comunque non si parla più di ruolo, ma si parla di funzione in campo, secondo me quattro andrebbero benissimo anche per le rotazioni, perché comunque hai Miretti, che è un jolly, hai Azic, che è un jolly, comunque non hai secondo me problemi poi a incastrare anche le rotazioni, però almeno quattro, se ne contiamo adesso due, più il punto interrogativo Chiesa, secondo me due da prendere, se è reintegrato Chiesa uno, però comunque secondo me quattro servono.